Ciao, oggi proseguiamo L'abbiamo finalmente messo nel culo al nostro caro specchio Dopo secoli Ora, andremo a fare quello che farò Ce l'ho fatta Voi, nella parte 40, non avete sentito nulla perché ho tolto l'audio, ma... Signori miei, quanti cazzo di scleri Questa è la squadra, quindi direi di andarci a curare a Duford Comunque, sì, benvenuti nel 41esimo episodio di Pokémon Snakewood Eccoci qua Allora, in sostanza vi spiego che cosa ci ha detto Esau dopo averlo battuto Che dobbiamo andarlo a cercare in una Sunlight Rock, tipo E... e ovviamente dove potrebbe essere questa Sunlight Rock se non alla Sunlight... alla Solar Cave, ovviamente Perché non sia mai... Signori miei Lo sclero non è finito, cazzo, sono subito caduto Perfetto, grazie della vita Comunque, se vi state chiedendo come ho fatto ad allenare i Pokémon Ho semplicemente battuto tutti gli allenatori che stavano nei percorsi acquatrici Dato che, vabbè, comunque alla fine sarebbe venuta una parte noiosa Noiosa, levati, panzone Levati! Ma, ma, ma... Nasona, via Ok, fermo Perfetto Checkpoint Calma Come ho fatto? Ok, calma Parton già le sclerate Comunque per chi non avesse visto l'extra in cui bat... Cioè l'extra, sì l'extra perché tutti questi qua sono extra Quindi se qualcuno è una porca troia ho sbagliato tasto Non avesse visto il video in cui batto lo specchio se lo vada a vedere È comunque corto perché l'ho velocizzata tutta Ovviamente, signori me, non ci sono riuscito al primo tentativo Già mai ho dovuto farne 26 Ce l'ho fatta Oh! Ed eccola qua la nostra roccia Ehm... Penso che sia questa La Sundance Rock Ok, non era Sunlight Perfetto Ehm... Esau non sembra essere qui attorno Questo è quello che pensi? Esau? Esatto Sono dentro la roccia Giustamente uno che è dentro uno specchio Perché non può essere dentro una roccia Ehm... Per... Solo per curiosità Ehm... Qui c'è una... Cassi di rock Ehm... Sì Ehm... Perché sì Ehm... C'è Giù nella miniera abbandonata Come lo sai? Ehm... Ance non so cosa sia Ehm... Che cosa devi insegnarmi? Ehm... L'arte del combatto sa... Del combatto saggio Cos'ho detto? Italiano confirmed Del combattimento saggio Ho un po' di fretta Devo salvare Owen Giustamente Ehm... I ragazzini di oggi Non hanno pazienza Ehm... Troppi videogames Ok Hai ragione Ehm... Stai provando a rompere Il quarto muro Ok Non sto capendo Io? Mai Comunque Ehm... Mi ci vorranno molti anni Per insegnamelo in 5 minuti Raga E ritorno al personaggio tag life Che conoscevamo No È la tradizione Ehm... Ehm... I didn't want to Have... Non voglio averne a che fare Ma... Ehm... Gna 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 Hai sposato Un'Itt... Ittita? Gli ittiti Gli ittiti Non erano una popolazione Della Mesopotamia Raga Datemi conferma qua sotto Per piacere No Ehm... Dannato Ehm... Lei è una ragazza bellissima È un'Ittita Ehm... Ok Non sto capendo Raga Chi cazzo è questa? Qua Ehm... Questa è Tita Ehm... Smetti di fare Ehm... Scherzi Genesis Con la Genesi Mamma mia Che traduzioni Ehm... Feriscono la mia anima Solo se me lo insegni velocemente Ok Ok Ehm... Lascia perdere mia moglie Ehm... C'è un unico modo per fare un lavoro così lungo in 5 minuti Un montaggio Sì Un montaggio Aspetta 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 Sb... Ferma la musica Cosa sta succedendo? Raga cosa sta succedendo? Cosa? Non vuoi imparare? Sì Ehm... Aspetta Ehm... Io questo Lo sono io che guardo a destra e a sinistra Con la musica Con la musica di sottofondo Che tipo di montaggio è questo? Beh Un montaggio di qualcuno che medita Ehm... Non so Non è particolarmente interessante Vero? Ehm... Ah Ehm... Maledetto te Esau E la... E la tua sposa è in tita Ehm... Non riesci a capire cosa sei? Sei uno scherzo esteso Basato su un capitolo della Genesi Ok La Genesi credo sia quella biblica Non sono sicuro Ehm... Non avresti dovuto dirlo Ehm... Se tu riveli quello che sono Ehm... Ehm... Morirò per sempre Ma è una cosa stupida Ehm... Questo mondo è stupido I Deadly Stable sono stupidi Gli insomi sono stupidi E tu sei stupido Esau Non sei... Nulla Ehm... You're nothing but Ehm... Sei un commento Ehm... Su... Sulla... Ehm... Natura ridicola Dell'incontro di Esau Con Jack Di Esau Con Jacob At the time of the Red Stew No Sto morendo Cratchatom Ok E' morto E otteniamo Excalibur Ok Re Artù Confermato Proprio Cioè Ok Aumenta le mosse La potenza delle mosse Di tipo quello No Il Poképhone Dai Come fa a prendere In una caverna E indovina Chi potrebbe mai essere Come sta andando Ehm... Non è un bel momento Ho appena ucciso Qualcun Ho appena ucciso Un... Questo è fantastico Ma come? Ma... Ma... Vabbè Abbiamo capito Di che tipo di gioco Si tratta ormai Ascolta Ho sentito... Hai sentito parlare Di un ragazzo Chiamato Esau Ehm... Quello... Ehm... Quello lì è quello che stavo cercando di... L'hai ucciso? Bene! Ehm... È il tipo di ragazzo Che potrebbe ottenere Un'alleanza Con la tua... Ehm... Ah ok Perfetto Sto cercando di dire Quindi quello che tu voglia Oddio Raga È il momento più imbarazzato Della vita Quello che tu voglio Che faccia È chiedergli aiuto Per trovare L'endon e me Ok? Ehm... Non offenderti Ma... Non... Non lo stai facendo Molto bene Professor Perce Stai zitto E ascoltami Grazie Ehm... Ok Questo è quello Che è successo Mi sono arrabbiato E ho accidentalmente Ucciso Esau Cosa? Lo so Lo so Ma... Ehm... Santo Umbone Ma no Creepy Che cosa Che... Qual è il tuo problema? Hai appena ucciso Un ragazzo Lo so Lo so Ed ecco per co Bisogna il tuo aiuto Che cosa faccio Perce Che cosa faccio? Professore Ok Ok Questo era un accidente Era un incidente Giusto? Sì Ehm... Poteva succedere a chiunque Ok Ascoltami Ecco quello che Ehm... Ah Ecco quello che Andrei a fare Niente Ehm... Continua come al solito Ma... Ma... Un incidente? C'è qualche testimone? No E quindi Ehm... Ehm... Mi hai preoccupato Mi hai fatto preoccupare Per un momento Nessuno può provare nulla Tutto a posto Starei bene Ehm... Ma... Ma la morale Non c'è tempo Per la morality Qui creepy Per la morale E qui la morality Sono arrivato io Ehm... Svegliati Questo mondo È screwed Cioè tipo Deveva Sotto sopra Ehm... Tutto ciò che voglio È mia figlia Ok Non mi interessa Di chi muore Professor Bercio Stai bene Oddio raga È impazzito Ehm... Ok Ok Devo andare a Sudpolis Devo trovare Blackthorn Ok Dobbiamo trovare Blackthorn T'ammazzo di botte Brutto obeso Eppure a te Allora Dobbiamo tornare indietro Con molta calma E dobbiamo cercare Sto maledettissimo Blackthorn A sto punto Che non so Dove potrebbe essersi cacciato Effettivamente Ma qui te levati Mi chiedo Dove potrebbe essere Il dock Forse è a Fort Draco Ma non posso volare lì Perché Per la La Ehm... Ah ok La Le correnti calde Tipo Ehm... Ok Stiamo chiamando Blackthorn Pronto Dock Ah Creepy Sei tu? Ehm... Aspetta un momento Ho un altro Ah ok Sei anche in un altro Gioco Perfetto Quindi ti sta chiamando Un altro Ti chiamo fra un attimo Questo era strano Ma che senso Aveva Questa scena Ma perché? Ehm... Ehm... Perché Come mai Io ho questo Inaspettato piacere Ho completato Il mio allenamento Con Esau Abbiamo fatto Un montaggio Non credo che si traduca Montaggio In realtà Sarà tipo un riassunto Un qualcosa del genere Oddio raga È troppo strano Eccellente Vieni alla Cassidy Rock Giù nelle miniere abbandonate Ed entreremo a Sudpolis Dove sono le miniere abbandonate? Ehm... Ovviamente non sai dove sono Vero? Ehm... Vediamo un po' Conosci un posto Chiamato Skypillar? Ehm... Mi è molto familiare È a desto È a desto Di Passi Feed Log Passi Feed Log Sì Ora Il Pillar Ehm... Cadde due anni fa Collassò due anni fa Quando Rayquaza Fu ucciso Ah! Torre Cielo Raga Ok È buono sapersi Ah... Via Ok È la Torre Cielo Ok Prima che venisse interrotto Sì! È la cazzo di Torre Cielo Quindi dobbiamo andare lì Ok Ad est di Orocea In pratica E signori miei Ho già sconfitto Come vi ho già anticipato Tutti gli allenatori Che si trovavano lì Quindi Avremo molte Ehm... Diciamo che avremo vita facile Però prima Vado a fare un po' di spese E vado alla Lega Pokémon Best Centro Commerciale EU Dammi un po' di proporzioni Caro mio Un po' di Max Repel Prima Che sono indispensabili E poi spendo tutto il mio Avere in Revive Mi rimangono pochissimi soldi Bene così Allora Vogliamo qua E prepariamoci Per andare allo Sky Pillar Non mi sento ancora Di stoppare la parte Al massimo ve ne cuccate Una più lunga Tanto non c'è Sidebar Non c'è nulla Perfetto Il tizio che stava qui Si è levato Perché prima c'era un tizio Che non ci faceva passare Per inciso Io queste parti con gli allenatori Le ho registrate Però non ve le faccio vedere Perché sono veramente pallose Solo Ciao Blackthorn Raga i bambini Stai scherzando Stai scherzando Abandoned mine Ok Voi siete Siete allenatori Sì Sì Credo Credo di sì Brilon Vai davanti tu Per piacere No Strapperò il tuo cuore Mi fa un piacere assurdo Ma no Finito il fatto Il repellente Vediamo un po' di Pokémon Allora qua abbiamo un Onix Bellissimo ma no Abbiamo un altro Onix Quindi devo dire Che la fantasia Naviga a gonfie vele qua Ok va bene Grave l'ero capito Non ci sono Pokémon decenti Repellente Evviva Qua io non so assolutamente Dove devo Ok L'utilità di queste grotte Mi sfugge Questa cosa qua È una roccia Sembra Un pezzo di Caramella Ok TM24 Boh Cosa sarà mai Adesso lo andiamo a scoprire subito Ehm Thundervolt Uh Intento No 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 raga Non è possibile Cristo Pure qua Eee Ehehe A posto Ho vinto raga Ho vinto Basta cioè Sì sì Oh perché sto ancora combattendo Raga cioè Vabbè è troppo forte C'è C'è Crippish Stories Proprio Devasto Beh ciao Ciao è stato bello Allora proviamo A mandarlo io un attimo Ti faccio un ancient power Ok mi sono pure boostato L'aerodactyl Non succedeva dal 96 avanti Cristo Veramente Allora Dammi un hyper potion Ok No no Tua madre è veramente Cioè Non troia di più Caro mio Non troia di più Allora Allora Proviamo un altro ancient Oddio ci siamo boostati di nuovo Miracolo divino No 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 Ma paralizzato Io T'ammazzo la famiglia La famiglia Il cane Tutto t'ammazzo T'ammazzo la vita No è partito con roll out Ok E sto provando a fuggire Ok questo inconveniente Di deadly seven Potrebbe prolungare Ulteriormente la parte Il che no è buono Ancient power Eeeh Giù Perfetto Morto Chi stai mandando Io ne approfitto Io non so più cosa fare Allora Willowisp Calma Fire pump No cosmic power Caro mio Non hai Eh si 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 Sicuro guarda Dai vai giù Ok perfetto Morto Tauros di nuovo Dio mio che sofferenza Allora Proviamo a tenere Ninetales E a fargli un willow Ok Mi sa che non ha funzionato Mi dicono dalla regia Che non ha funzionato mai Dai No Full restore Io ti odio Ti odio Nel cervello proprio Ok perso Allora Calma Jump kick Earthquake Jump kick Jump kick Perfetto Giù Mil tank Oddio che sofferenza Cos'hai No minchia Ok devo switchare per forza Quill shark Sostituto Aiuto Ok Dai giù Un altro Ok Dai Sì Oddio 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 la sofferenza Sì ma se sono tutti così Io devo farmi le maratone Per andarmi a curare I centri pokemon Sapete Potrebbe essere un problema Abbastanza problematico Una frase bellissima in italiano Veramente Datemi la zanichelli La compro Cioè veramente Allora Snake oil Mettiamo davanti Swell of Un po' così a caso Cazzo Mi sa che sono tutti in fila Allora Io non mi ricordo neanche L'ordine che avevano Mi pare che avessero Un ordine preciso Allora Bellossom Qua Snake oil Sweet shin Cos'è che è Profumino Vero Ok fammi solar beam Che non mi fai un Cazzo Ma quasi shottato Raga Le palle Non mi fai un cazzo Allora Un altro Oh Mondio 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 Qua va a finire che perdo Ve lo dico io Signori miei Fly Aromaterapia Perfetto Ti faccio un altro volo Vai giù di nuovo Così Vai Ok questo qua ne ha pure 4 e basta Petal dance Volo e giù Ok Questa me la sono Giocata bene direi Iperpozione E ole Battuto Abbastanza agilmente Non vorrei dire una cagata Ma il prossimo dovrebbe avere Gli onix Se non sbaglio Cioè gli steelix ormai No aspetta Ma Sono andato di sopra io Raga c'è un problema Ah ok Cos'è Glow herb Erbaluce Ok Impedisce la diminuzione Delle statistiche Ok Eccovi qua Infamissimi Esatto Steelix Perfetto Mi ricordavo ben Cazzo Uh Che culo Allora Calma Surf Surf Perfetto Diamandix Ditemi che non è un'evoluzione Di steelix Perché non ci crederei Mi sa che è diventato solo acciaio Sapete No Non so cosa sia diventato Di che tipo sia Caro mio Dimmi di che tipo sei La buona cosa è che rimane perennamente ghiacciato Un altro diamandix Proviamo a ghiacciare un altro Che ovviamente non funziona Aerodactyl Ancient power No Hyper beam Non lo so Ti faccio un po' di mosse a caso Qua l'ho presa proprio in culo Devastante Da violenza Allora Ma se ti faccio un firepump Ma di che tipo sei Raga Non capisco Vai giù Merda Allora Sky Apercat è super efficace E vabbè Puoi E sì Raga Ciao Ciaone proprio E vabbè Ma quanto cazzo fa male Ma fa malissimo Ma oh Ma chi sei E va bene Ok Ho perso tantissimo Concelolo Tipo ho perso Di violenza Ok Credo che questo episodio Possa concludersi qua Nel prossimo faremo La torre cielo Le abandoned mine Perché adesso sono difficilissime Devo un po' Studermi una strategia Detto ciò Io spero che questo Secondo No il terzo No il quarto Questo quarto extra Di Pokémon Snakewood Vi sia piaciuto Se è così vi invito Come al solito A lasciare un like A commentare A iscrivervi al canale Rispondete alla domanda del giorno Ovvero con l'hashtag Drake is Jesus Che trovate all'inizio del video E noi ci becchiamo Appunto In un prossimo video In un prossimo video E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti